Bella ragazzi, qua è Zalti e benvenuti in questo secondo pick opening Oggi siamo qui a spacchettare, loro ragazzi sono usciti Eccoli qui Probe, Ronaldo e Messi, gli attaccanti Ora quindi andiamo a spacchettare Ad aprire i pacchetti Sperando che riesco a vendere Ecco qui, apriamo uno da 25.000 giusto per sfizio Che troviamo, chiudendo gli occhi Troviamo nessuno, lo so Sì, si stava aprendo, l'ho visto Gesù, ti prego, Gesù, una magia, Gesù, una magia Un'ottanta di bouchy Saltiamo Pacchetto di merda Direi Ottimo Pacchetto di merda Sono scesi subito a 56.000 Io infatti dovevo spacchettare circa 50.000 crediti Perché io per 50.000 crediti Arrivavo a 30.000 Vabbè niente ragazzi, lasciamo stare Sto aspettando di vendere quel cazzo di mata di merda Che sto facendo un po' di compraventito Ecco qui, credo che l'ho venduto Guardiamo un pochino, guardiamo Allora io soltanto che trovo roba No, non l'ho venduto Ah, erano i crediti, vabbè Apriamo il secondo pacchetto C'è casino qui perché oggi È il terzo video che sto registrando Aspettate, ecco Il terzo video che sto registrando perché A mia casa questa sera Mi ha fatto la pizza Perché ci sono i miei cugini Sono venuti tutti a mangiare La pizza perché fa il compleanno A mia sorella vi ho registrato Due rotto di 19 o'an E questo per copericolo Perché ho accesso Ho fatto l'accesso Alla webappi ho trovato Troviamo Troviamo No No Un bacchetto da 15.000 Arneanto C'è FIFA Gamers Trova Messi Maradona E Cristiano Ronaldo Io trovo Arneanto Ma bea D'allora Ma come cazzo Va a trovare I giocatori del genere Spiegamelo FIFA Gamers Spiegami Forza Forza Che ti picchio Forza Forza Un attimo Che mi metto a posto Questo pacchetto Perché non so Perché la connessione Va lenta Ok raga Ho venduto tutto Andiamo di nuovo Al negozio Apriamo 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 Di nuovo 1.15 Gira Gira Il pallino Giù la scrivania Ciao Lì Ciao Dici Mi riesco fuori Per vedere Per vedere Che ho trovato La ronda Adesso Mi sentite L'ho qui giù Se trovo Ronaldo Vado là dentro E grido Merda Si sta aprendo Non lo so Ma sono giocatori Questi Sono cazzo Merda Schifo Ma raga Gesù ci ha voluto bene Ci ha dato anche qualche credito Per le credite We are Decebio Però mi conservo un po' di cose Che vediamo tra qualche secolo Raga Continuiamo con il pick opening Apriamo uno da 5 Speriamo che ci porta fortuna Quello da 5 Con questo aperto Lascio Questo aperto Quello da 5 Ci deve portare fortuna Quindi raga Io dico Con un pacchetto da 25 Ho spacchettato Ce ne avevo 81.000 Sono a 35.000 Ho spacchettato 50.000 crediti Forse anche di più Nessuno Come neanche ora Troverò nessuno Vabbè Boriello Chi è bellotto Ma vaffanculo Belluschi Ma chi è Rega Andiamo ad aprire L'ultimo pacchetto Perché questi pacchetti Mi hanno veramente Schiacciato la minghia Perché Non ho trovato nessuno Non troverò mai nessuno Mai 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 Stanno prendendo La dentro Ma schifo Dai cazzo Mi frega Faccio questo pacchetto Soltanto Per i miei iscritti Tanto Non ho mai nessuno Merto Ma anche perché Non mi chiamo FIFA GAMER A me non piace Manca a me Mi piace spacchettare Da 80.000 crediti Sono arrivato A 19.000 crediti A prendo Uno di quei pacchetti Blu di merda E non trovando nessuno Anche a me Non mi piace Quindi Cara mamma Non rompere con lo Che a me non piace Non Sto facendo Un po' di compravendita Neanche Quel cazzo Di Di Cosa Di 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 mata Ci stanno comprando Perché Io Ho fatto C'è 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 Un mobbo Non lo so Allora 81.000 Per arrivare a 19.000 Sono 60.000 crediti Contando tutte Le cose che abbiamo scartato Sono quasi 70.000 crediti 70.000 crediti Non abbiamo trovato nessuno Più forte che abbiamo trovato Forse Huggers Pensate voi Mi mando tutto a club Giusto per far durare il video Quindi non scuccia Dove la mente La minghia Riga Questo Ecco qua E però Non mi faccio Vedete solo quello Sto E di No Sto renderizzando Il Tanto probabilmente Vi caricherò Prima questo Come sto renderizzando Il È un pacchetto D'oro Sto renderizzando Il Rotto di suono Il primo Che Oggi Quando non lo sto renderizzando Non so Se è bloccato Ok È bloccato tutto Quindi dopo Sono andata a accompagnare La mia cugina Ho avvicinato il computer Così acceso Poi Si è aggiustato La mia cugina Si è aggiustato tutto Ed ora Siamo a 89% Di renderizzazione Sono state Oltre mezz'ora Per aggiustare La webcam Riga Apriamo un altro Dove nello scherzo Apriamo quello Gratis Che non Non so Lo riesco E Ecco No quello Da 7500 Non è notato Ecco Disponibile Si si Tanto non troverò mai nessuno O tipo Trovo Ronaldo Si E voglio C'è Sto Non si sa Mai Non si sa Mai No Non si sa Mai Non Non 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Tutti questi Poco penin Che ho fatto Ho trovato Solo contratti Se mi rivendo Ho 70 contratti Per 200 70 per 200 2.800 Mi faccio 1.800 1.800 Solo per i contratti Sono un big Vendi tutto Vendi tutto Ok Mamma mia Che per copenin Di merda E ora Vado a shoppare un altro po' Per poi Riprendermi I crediti E domani Domani Farvi un altro Per copenin Perché vorrei Trovare Uno di questi Tre giocatori Quindi ragazzi Vi faccio qui Lasciate un like Un commento Se vi è piaciuto Lasciate un like Se non vi è piaciuto Lasciate un dislike E scrivetemi un motivo Perché non vi è piaciuto Perché A me non mi piace Quando uno Mi mette un dislike Senza un motivo Cioè O uscite degli haters O Bella Tutti